il mio cuore si sta fermando queste le terribili parole con cui marta slaviero ha svegliato il marito nella notte tra sabato e domenica spiegando che non si sentiva bene l'allarme al 118 è stato immediato ma purtroppo vano inutili tutti i tentativi di rianimare marta 35 anni mamma di due bambini di 3 e 8 anni la tragedia è venuta malo nell'abitazione di via maroncelli dove la giovane mamma ex maestra d'asilo viveva con il marito e i due figli soccorsa da un'ambulanza del suo è stata poi portata all'ospedale di santorso purtroppo non c'è stato nulla da fare marta che soffriva di problemi cardiaci a breve avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento grazie a tutti